Forza, andiamo! 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 Andiamo! Un mistioso può fare qualcosa per te? Non crederesti alle parole che escono dalla bocca degli uomini quando sono sbronzi? Non crederesti alle parole che sono sbronzi? Quegli idioti si sbronzano in tua presenza! Io non perderei nemmeno un secondo con te Allora forse dovremmo passare un po' di tempo insieme, ma prima devo occuparmi di una cosa Forse posso aiutarti Il comandante ateniese è un mio cliente e so che quello che ho sentito ieri sera gli interesserebbe Ma quei maledetti spartani sorvegliano la strada che porta all'accampamento ateniese Quindi vuoi che io compia una strage spartana? No, deve arrivare senza un graffio Ci sto! Bene, mi rendi un grande servigio Qui abbiamo finito Allora forse procedura Mori! No! No! We're gonna give you shit out of here! Take me! No! Oh Oh La tua ora è vicina, Miss Allora ti dobbiamo Oh 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 Dai Dai Andiamo Andiamo Oh 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 No, no, adesso. Questo è per te Grazie, Mistios Prendi È per te Non c'è nulla possibilità Oh, Dave Oh, Dave Oh, Dave Oh, Dave Oh, Dave Oh